Attenzione! Eccolo! Il point du jour per piacere! Taxi! Al point du jour, presto! Avanti, seguilo! Seguilo! Chi hanno sabotato? Ma come sarebbe? È un colpo di fantomasse! Presto! Vai a chiamare un taxi! Muoviti! Ma non ci sono, Taxi! Ma me ne frego! Vai a chiamare un taxi tu! Muoviti! Sento! Via! Dove lo trovo? Avanti!